Mi trovo a Taranto ovviamente in piazza Carmine nel pieno centro Umbertino a pochi passi vedete da piazza della Vittoria è come dire il punto uno dei punti certamente più significativi di Taranto e guardate che mostruosità è stata fatta oltre al fatto che è inaudito vedere uno spiazzo immenso bellissimo dinnanzi appunto alla chiesa del Carmine con ripeto uno spiazzo enorme tutto di asfalto in genere si mettono i mattoni si mette il marmo si mette altro tipo di materiale ma non voglio entrare negli aspetti estetici che pure contano molto perché stiamo parlando del centro storico di Taranto ma guardate un po' in che maniera pedestre schifosa è stato realizzato l'asfalto è stata data una leccata di asfalto per modo di dire che quasi quasi si sta sgretolando guardate qui come è stata fatta male al punto che sta emergendo quanto si trovava al di sotto appunto dell'asfalto guardate qui emerge la pietra non so che materiale e immaginate ancora come con il caldo con le temperature torride questa lo ripeto leccata strisce queste strisce giuste apposte di asfalto quasi si sgretolano appunto con il con la forte temperatura con le alte temperature ma guardate anche qui come è stato fatto guardate proprio qualcosa di pazzesco guardate come si si sfalda qualcosa di inimmaginabile ma anche fatto male guardate come sono state come è stato asfaltato non c'è una continuità tra le varie strisce di asfalto che sono state fatte è stata data così una gettata di asfalto una leccata chiamatela come volete magari per l'occasione della processione dei misteri e poi ovviamente si lascia tutto così una immagine penosa ma lo si vede anche a distanza guardate qui prego come è stata messa male la distesa di asfalto non è appunto uniforme e ancora guardate parecchi cittadini mentre stiamo realizzando il il servizio segnalano appunto le stranezze e guardate che che pugno all'occhio una bellissima una bellissima chiesa e poi questa questa questo deserto di asfalto ma dicevo quando vi ho detto che si sta appunto sgretolando e non vi dico chiacchiere guardate qui le pietroline di asfalto come si sollevano le vedete vedete come si si sgretola si solleva l'asfalto qualcosa di incredibile questi sono stati lavori che sono stati fatti con anche qui con il danaro pubblico con i soldi del cittadino contribuente questa schifezza di lavori perché questa è una una cacata di lavori una schifezza di lavori così vanno definiti allora andiamo a vedere chi ha fatto questa cacata di lavori perché chi ha fatto questa cacata di lavori li deve rifare chiamiamo la ditta e diciamo cara ditta vieni e rifai perché sei stata pagata perché non è che le ditte vengono a fare lavori per beneficenza cioè questo significa che i lavori vengono eseguiti e non esiste il controllo non esiste il controllo da parte degli uffici tecnici oltre al fatto che non esiste un sindaco che gira per la città perché questo è un sindaco invisibile ma non pretendo la presenza del sindaco ma almeno i dirigenti i funzionari guardate cosa è stato fatto ma che immagine diamo innanzitutto a noi stessi e poi ai turisti l'asfalto che si sgretola l'asfalto che si sbriciola l'asfalto che con le temperature quasi salta in aria è mai possibile una cosa del genere ma che immagine diamo e questa sarebbe caro melucci la rinascita di taranto ma i lavori sono stati fatti come si dice a taranto a vecchie a occhio cioè alla carlona alla viva il parroco alla meno peggio tanto l'importante era far vedere devono passare le statue della processione e chi si è visto si è visto le pietrollite che si sollevano a una due questi sono pezzetti di asfalto portiamo a palazzo di città e facciamo questi sono i semi della rinascita i semi della rinascita che sta seminando melucci è tutto da piazza carmine asfalto schifoso realizzato schifosamente ennesimo spreco di danaro pubblico assoluta inefficienza della macchina amministrativa e tecnica comunale